L'estate su quelle piante, come si chiamano lì, come si chiamano le piante, un bel fiore bianco e poi ti fa un bel gambo e sembra una pina e sono tutti lì nell'angolino, siccome poi ci passano anche a incollare, o a Bartalucci, se no ti fai potare le scatole da tu parli, no, oltretutto poi, siccome lì ci attaccano anche i manifesti, con la colva che cola queste belle pine si attaccano ai marciapiedi e quindi non vengono più via, chi le spazzerà? No? No? Questa è una curiosità. Quindi voglio dire, c'è tante cosine da carta ai cittadini che può fra l'altro leggere bene, sembrano quasi più doveri dei cittadini che doveri dell'azienda. Mi dice la guida le raccolte, io ti dico tutto come fare, oh ma fallo eh, capito? Le raccolte di pile esausti, passano a avere, insomma, voglio dire, potevate, uno, farla più semplice, due, avere più realtà veramente che ci sia personale per il cittadino lì a rispondere, sia al call center che andando di persona. Tre, cosa fai io cittadino se dico per me spazzate male qui, a chi mi rivolgo io? Telefono al call center? Faccio una raccomandata, mi viene data risposta, detto 30 giorni? Perché poi devo spendere una raccomandata? Una lettera semplice può andare, no, devo spendere 5 mila lire, 3 euro, 2,80 euro, tante sono, non me lo ricordo neanche, no, devo spendere la raccomandata per dire, io protesto perché in me a Roma non voi siete venuti a spazzare? Ma ci rendiamo conto di questa carta dei diritti che voi avete voluto e che lo date tanto, che il caro Duobaca, che Bartaluccio non dà neanche, che Duobaca apprezzano tanto e che poi non serve a niente. Dovevamo andare a regole più precise, a 5-10 punti e via, e fare sì che il cittadino quando telefona o viene per protestare o per bisogni o per necessità, veramente gli sia risposto che non sta lì un'ora e mezzo oppure ha il telefono a passare via perché tanto il consente non lo fa. Questo mi doveste dire, se avete intenzione quindi di aumentare il personale del consente o questo consente deve fare per tutte le aziende che fanno parte della galassia comunale e intercomunale e deve abbastare per tutti. Grazie. Ci sono altri consiglieri? Bene, chiudo il dibattito, dichiarazione di voto? Prego consiglieri. Ci sono dichiarazioni di voto? Bene, quanti sono i votanti? Prego scusatori. Sandro, vieni dentro? Sandro, vieni dentro? Bene, 23. Chi è favorevole? Prego consiglieri, alzare la mano. 23 meno 6, 17. Chi è contrario? Sono 4 contrari. Chi si astiene? Due astenuti. Metto in votazione l'immediata eseguibilità, sempre gli stessi, 23. Chi è favorevole? Prego consiglieri, alzare la mano. L'immediata eseguibilità. La delibera. 19. Chi è contrario? 3 contrari. Chi si astiene? Un astenuto. Punto numero 9, regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani. Chi? Assessore? Prego. Questo è il regolamento per l'applicazione della tariffa di genere ambientale. Consiglieri mantiene sostanzialmente il doppio binario, come si è chiamato fino ad ora, per il semplice fatto che si applica sia nei comuni che fanno già ora il porta a porta, sia in quelli che il porta a porta lo faranno tra un anno o più. Quindi sostanzialmente ci sono questo doppio regime, poi è uguale a un'applicazione della tariffa e poi rimanda a regolamenti già in vigore. Grazie per la parola. E' uscito ora un comunicato stampa su GoNews proprio riguardo alla TIA, dice che la Corte Costituzionale ha dato una sentenza definitiva e dice che anche questa è una doppia tariffa per cui bisognerà restituire l'IVA, c'è scritto ora qui, io lo sto a leggerla, andate su GoNews e chiede appunto e la TIA deve essere dunque considerata a tutti gli effetti un tributo comunale, pertanto le relative entrate devono confluire nella tesoria comunale delle entrate a far parte del bilancio 2010 dei comuni che l'hanno già adottata. Poiché le sentenze della Corte Costituzionale sono inappellabili e fanno stato a tutti gli effetti gli atti tributari sarebbero improprio chiamarli bollette non avendo natura tariffaria e quindi corrispettivo di un servizio reso e messi successivamente alla sentenza non dovrebbero recare l'IVA, bisogna capire ora cosa ne penserà pubblico ambiente per cui... Quello che hai letto è quello su GoNews, è ripreso da... No, mi premeva a informare il Consiglio Comunale che è uscito proprio ora su GoNews e... Lo sapevate? Ah, lo sapevate? Bene, ci fa piacere! No, in merito alla restituzione dell'IVA ci sono già state anche tante richieste, come si pone l'amministrazione comunale, come si pone i pubblici servizi di fronte a questa cosa mi piacerebbe sapere avere un po' una risposta chiara, grazie! No, no, che si risponde? L'IVA e si risponde in fare un'interrogazione e poi... No, non è che... Parliamo, spreco, Giacomo! Io non sto a rifare di nuovo in termini, tanto ci sarà poi quello conclusivo che riprende più punti, però sto sempre aspettando di sapere quando scadrà l'affidamento di pubblico ambiente. Grazie. Manderò a tutti i punti se questo deve essere... Due risposte. Intanto l'affidamento di pubblico ambiente, io non ho nessun problema a affrontare la questione. Non mi sembra però, consigliere, che attenga né al regolamento della tariffa, né al regolamento del servizio, né alla carta dei servizi nel piano finanziario. Comunque, l'articolo 23 bis del testo unico del 113, così come è modificato dalla legge 166, articolo 15 bis, dice che tutti gli affidamenti in house, cioè affidati direttamente a società controllate o di proprietà dei comuni, hanno due possibili scadenze. Una è quella del 31 dicembre 2010, laddove non sia dimostrato che su quella società c'è un controllo analogo da parte dell'amministrazione comunale, poi entro anche in merito di questo. Laddove invece è dimostrato dove c'è il controllo analogo, la scadenza è al 31 dicembre del 2011. Ovviamente la norma dice, e questo è il codice dell'ambiente, che non è che si possa smettere all'improvviso di togliere i rifiuti dalle strade e quindi di fatto demanda a quello che dovrebbe essere l'organo preposto all'affidamento del servizio, l'affidamento di questo sulla base di quelle tre regole che fissa appunto il 23 bis e che sono una, per casi prettamente eccezionali, laddove per esigenze territoriali, per situazioni particolari non sia possibile trovare una attenzione.